Oggi vi suggerisco le polpette, zucche e patate in friggitrice d'aria. Ho cotto a varoma le verdure, successivamente li prendiamo, li mettiamo in una scodella e li schiacciamo con una forchetta. Se volete potete utilizzare anche uno schiacciapatate, poi mettiamo del sale, un po' di parmigiano, se volete anche buono il pecorino, l'uovo e cominciate ad amalgamare. Al composto poi si aggiunge anche del pangrattato per avere un'ottima compattezza, quindi mescoliamo ancora. Alla fine otterrete questa consistenza, prelevate con un cucchiaio, adagiate nelle mani, allargate e mettiamo un po' di scamorza affumicata. Chiudete e formate una pallina. Passate le palline nel pangrattato e successivamente li sistemate tutte dentro una teglia. Potete utilizzare anche una teglia classica invece di quella forata. Spruzzate con dell'olio e trasferite in friggitrice d'aria. Io ho utilizzato la massima potenza per 15 minuti. Potete anche infornare in forno ventilato per circa 20 minuti. Ecco il risultato finale. Sono veramente ottimi e filanti. Se amate la frittura li potete anche friggere e questi veramente sono ideali anche per i bambini che non adorano appunto le verdure. Un bacione.